Buongiorno a tutti, grazie a Scibetta, è stata una bella idea quella di sentirci 3-4 mesi fa, 6 mesi fa. Io metto in atto la nostra campagna nuova che invita tutti i medici quando parlano con i pazienti a presentarsi dicendo buongiorno, io sono il dottor, abbiamo 5.100 mi piace su Repubblica, il nostro segretario generale in questo momento Marco Bobbio è sulla voce di tutti. Ma proprio perché mi presento vorrei sapere voi chi siete. Allora vorrei capire chi non è di Padova. Oh, quindi venite da fuori. E chi è di Padova? Facciamola molto bene. E quanti sono infermieri, ostetriche, assistenti sociali, assistenti sanità, tecnici di laboratorio, psicologi, medici, visto? Siamo circondati. Cittadini normali che... Cittadini normali? Cittadini normali che... Quanti di voi siete in cura per qualcosa? Quanti di voi non siete in cura per niente? Quindi abbiamo un pubblico di quasi sani. Bene. Allora, la relazione che mi avete chiesto parla di qualità statica e di qualità dinamica. Io sono stato un pediatra. Chi è di Padova conosce Franco Panison, che ha signato qua, è stato mio maestro di pediatria. E sono circa 40 anni che parliamo di queste cose, solo che le parliamo in modo diverso. Tutte queste cose ci hanno determinato speranze e ci hanno dato esperienze. Le esperienze erano quando avevo questa faccia qua e le esperienze poi hanno fatto diventare questa faccia così, probabilmente perché ho usato uno shampoo troppo forte in questi 40 anni. Una delle esperienze, delle speranze, è stata indotta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che circa negli anni 80 organizzò dei seminari internazionali su che cos'è la qualità delle cure, invitando un po' di persone, un padovano, Franco Perraro, un triestino, Andrea Gardini, una di Barcellona, Rosa Sugnolo, e una serie di persone che hanno poi costituito la Società Internazionale della Qualità in un convegno che è stato fatto a Udine e che sarà rifatto alla fine di maggio a Udine con tutti i soci fondatori, che si interessavano di questo famoso doppio ciclo, il ciclo della gestione della qualità e il ciclo del miglioramento della qualità. La famosa VRQ, verifica, revisione della qualità, nome tremendo, dato dal Ministero per riuscire già a ingabbiare una idea di qualità dinamica che in un'Italia statica non poteva andare bene, quindi abbiamo dovuto burocratizzarla in maniera vergognosa. Quando nel 1984 abbiamo detto che cos'è che volevamo fare come Società Italiana della Qualità, la chiamavamo mission e adesso abbiamo detto basta, chiamiamo che cosa vogliamo fare, perché mission proprio, sempre di quelle robe, dei film dell'orrore, fare ricerca, validare, diffondere, modelli, strumenti, tecniche, metodi per progettare, organizzare, valutare, migliorare la qualità e la sicurezza dell'assistenza sanitaria. E questa cosa qua partiva da un presupposto importante, che ci sono tre diversi gradi di complessità della qualità in sanità. Il primo è garantire un'assistenza minimale di fondo e monitorare che sia fatta bene, che è responsabilità di ciascuno di noi ogni volta che tocchiamo un paziente. Il secondo è individuare problemi prioritari sottoporti a valutazione, migliorare con progetti partecipati. E il terzo è costruire un sistema, costruire un sistema in cui la progettazione di cure migliori per la salute dei cittadini sia l'azione organizzativa più importante. Tutti siamo stati coinvolti in queste cose negli ultimi vent'anni, più o meno. Faccio arrabbiare la Sandra perché cito Augusto Murri, che è il nostro maestro di medicina italiano, che ci ha insegnato a essere sempre critici nei confronti di tutti e non credere a nessuno. Cito anche Golgi, che ci ha insegnato a guardare dentro nel cervello con i vetrini e la sua colorazione del Golgi, ha insegnato a Rita Levi Montalcini a prendere il premio Nobel, come ha preso il premio Nobel lui. Cito Cushing e i fratelli Maio e soprattutto cito questo signore che è conosciuto in maniera importante, che arriva qua pian pianino, che si chiama Codman, anche nel... che cento anni fa, disse Misi definisce centrico per aver detto che gli ospedali, se vogliono essere sicuri di migliorare, devono analizzare i loro risultati per accertare quali siano i punti forti e i punti deboli, confrontare i loro esiti con quelli degli altri ospedali, trattare solo i casi per i quali siano in grado di fare un buon lavoro, assegnare per il trattamento i casi ai medici sulla base di criteri migliori dell'anzianità o delle convenienze del momento, discutere non solo i loro successi, ma anche i loro errori, collegare la loro carriera alla qualità del loro lavoro con i pazienti. Queste opinioni non saranno giudicata eccentrica fra qualche anno, cento anni fa. Tiri sulla mano se sta roba qua succede nei vostri ospedali oggi. L'OMS ha provato a metterci insieme, abbiamo lavorato un sacco, abbiamo capito che il miglioramento continuo voleva dire benefici raggiungibili non ancora raggiunti. Penso che ciascuno di voi in questo momento sta pensando sulla propria pratica clinica organizzativa, quali sono i benefici raggiungibili che non avete ancora raggiunto e spero che qualche idea vi venga. Cochrane ci ha insegnato delle cose belle, che bisognava fare le cose secondo l'evidenza scientifica e abbiamo imparato molte belle cose da Donabidi, anche sulle cose della qualità. Semplicemente per 40 anni si è messo a leggere la letteratura medica e a tirare fuori i concetti, tra cui quello di struttura, processo e risultato, è stato il concetto più importante. Che cosa abbiamo appreso in questi anni? Nel 1995 è venuta fuori la carta dei servizi pubblici, che è stata una prima conquista in cui si diceva che è la carta dei servizi tutela, comfort, accoglienza, monitoraggio, esperienze, reclami. Vent'anni dopo che cosa abbiamo? Abbiamo una cosa interessante. Abbiamo che i british ci dice che i pazienti sono incazzati, neri, sono arrabbiati come non so cosa, non ci sopportano più. Per 20 anni di liberismo abbiamo messo in piedi un sistema di competizione fra consumatori e produttori di prestazioni che ha determinato conflitti insanabili ed è questo il motivo per cui in questo momento noi stiamo male. E come si esce da questa cosa? Si esce parlando di centralità non dei cittadini ma delle persone, è quella cosa che ho sentito dire qui in questa bella azienda sanitaria, e si esce con l'alleanza tra pazienti, persone e professionisti tutte le volte che si sta male o tutte le volte che si vuole prevenire delle cose. O ci si allea e si progetta insieme o le cose vanno male. Punto. Perché non si può fare una cosa contro il volere di qualcuno in un sistema complesso che è un sistema che deve essere riconosciuto come tale e che non può essere ridotto a piccoli passi quotidiani in cui ognuno fa la propria piccola cosa o come si dice a Ferrara, ognuno balla con sua nonna. Allora, noi ci siamo trovati a parlare di organizzazione, abbiamo trovato tante parole, tante parole, abbiamo trovato un pazzo scatenato che si chiamava Taylor, che è stato preso e tutte le volte che qualcuno parla di prodotto in sanità, è taylorista, ma cita una letteratura organizzativa di 112 anni fa. Mentre in realtà noi abbiamo avuto degli autori fantastici, Mond, Mintzberg, Kat De Vries, che ci hanno insegnato delle cose bellissime, qui sono con Mintzberg, e Mintzberg ci ha detto delle cose fantastiche, gli dice che ci sono cinque bisogni di riforma, riformare la leadership e puntarla in management diffuso, riformare lo stile di care delle istituzioni sanitarie, di prendersi cura di rispetto a proponare dei trattamenti, understand hospitals, not run, capirli, non farli correre. Riformare l'organizzazione come una roba fatta da persone che hanno fatto un giuramento, e che sono qui due, tre giuramenti, allo Stato, a Ippocrate, a Flores Nightingale, e che hanno passato un curriculum di studi difficilissimo. Provate a vedere quanti di voi hanno fatto i chirurgi bucianti, tutto in anatomia umana normale, e sono passati. Altro che crisi psichiotica. Basta con la competizione. Non esiste, cioè in sanità la collaborazione, non la competizione, non esiste. Attenzione ai bisogni di comunità. Sono queste le cose che servono. E servono dentro un'organizzazione che è un sistema vivente, è una cellula, è una cellula che ha determinate cose, che interagisce continuamente. fra tutti i suoi organici, organoli, in mezzo a tutti gli esseri viventi. E quindi siamo passati dall'organizzazione che parla di struttura, processo, prodotto, profitto, a Don Abidian, che ci dice struttura, processo, risultato, a quelli che dicono accesso, processo, successo, come show, come Tonelli. E allora, ma cosa vuol dire la qualità professionale? La qualità professionale vuol dire è che noi stiamo gestendo un sistema di saperi, saperi di tutti i tipi, che devono riuscire a comunicare gli uni con gli altri, che hanno tutti la loro dignità, anche il sapere di come si fa una gara d'appalto senza imbrogliare o imbrogliando, il sapere di come si riesce a fare marketing di una sfiga per farla diventare un affare proprio. e allora su queste cose qua i saperi sono tutti con la stessa dignità, perché il nostro sapere è un sapere multidimensionale e intradisciplinare, perché al centro c'è la persona. E al centro del sapere c'è quelle cose che Marco, che parlerà fra un po', ci ha insegnato, con il suo libro Clinical Trials di vent'anni fa, che dice che noi siamo un pochino miopi quando seguiamo le nostre opinioni e siamo molto più comprendoni, siamo pieni di più di comprendonio, capiamo le cose quando vediamo gli studi clinici ranzomizzati o le revisioni sistematiche e che sono la nostra guida professionale importante. Allora, è vero, abbiamo più probabilità, guardando le revisioni sistematiche, di affermare come è vera una cosa quando è, e su questa cosa è la nostra etica che ci permette di curare le persone rispetto alle nostre migliori conoscenze. Allora, questo è il nostro sistema qualità, in cui la sicurezza dipende dalla qualità dell'organizzazione, da come ci alleiamo con i pazienti e da come riusciamo a garantire che nella nostra professione sia fatta bene. E questa è una cosa importante che previene tutto ciò che riguarda il rischio dei pazienti, perché o si fanno le cose bene dal punto di vista organizzativo, con la centralità delle persone e con delle persone competenti, o il sistema diventa insicuro, non ci sono santi. E allora su questa cosa il discorso del progetto è una cosa importante della competenza, avendo nella testa gli obiettivi di salute. Allora, com'è che abbiamo fatto e concludo nel giro di tre minuti se mi da ancora, perché riesco a farlo. Ecco, in trent'anni di lavoro abbiamo cercato di capire cosa sono le cose della qualità e le abbiamo scritte in linee guida, raccomandazioni, conoscenza, scrittura di cose della qualità nazionale e internazionale. Su queste cose ci siamo resi conto che erano strumenti, che erano vuoti, se non c'era una collocazione all'interno di un contesto, anche perché il contesto ci vende strumenti a seconda di chi è il commerciante che ce li vende meglio. E non tutti gli strumenti sono di efficacia dimostrata per quello che riguarda la cura per i pazienti. E allora il sistema esplode. Siamo rimasti con il mondo che è esploso nel ottobre 2008 e siamo rimasti senza soldi. Abbiamo avuto un disastro economico spaventoso e noi in questo anno compiamo 40 miliardi di meno per il servizio sanitario pubblico e poi siamo andati perché abbiamo il filo in pronto soccorso. E questa crisi sistemica è una crisi che è stata in qualche modo preconizzata dal MIT attraverso il Club di Roma e questa cosa ci sta succedendo esattamente quando è stata prevista. E noi siamo dentro una terra che in questo momento noi stiamo consumando in maniera pesante. come ne usciamo? Ne usciamo cercando di garantire la sicurezza dei bisogni essenziali del centramento dei servizi pensare. E allora ci siamo messi a lavorare su un po' di attori c'è anche Piero Apolettico e abbiamo capito che cosa vuol dire oggi la sanità anche da un punto di vista economico e abbiamo scoperto che ci sono un sacco di stime che ci dicono che errori sprechi ricoveri malposti situazioni costano un sacco soprattutto ai servizi pubblici e sono una trasfusione continua dal pubblico al privato di soldi delle vostre tasse. E allora abbiamo cominciato a dire non ci va bene abbiamo migliaia di attività lette e scritte di articoli che ci vengono detti e abbiamo detto proviamo a lavorare di slow medicine questi siamo noi abbiamo fondato la nostra associazione circa ormai 4 o 5 anni fa e quello che ci è successo a parte la cosa abbiamo capito che cosa vuol dire fast e slow medicine in prevenzione in comunicazione in mamme e bambine in adulti e negli anziani ci siamo messi d'accordo con slow food e abbiamo capito anche fra l'altro perché molti di noi lavorano che si muore ancora in giro per il mondo per esempio per l'Adriatico c'è un'altissima mortalità nei posti poveri tipo Croazia tipo Albania delle donne al di sotto dei 14 anni anche per tubercolosi e noi non è che facciamo granché per queste cose qua e allora abbiamo preso la lezione di Carlo Petrini e la lezione di Carlo Petrini la facciamo nostra perché pensiamo che possiamo dare una spinta alla nostra società cercando semplicemente di utilizzare il pensiero come una delle cose più belle che abbiamo grazie grazie